Da domenica scorsa i cittadini di San Nino e Ponte Chiasso a Como hanno lamentato problemi nell'erogazione del gas. Problemi, ha poi spiegato la società Duei Rete Gas, legati a un'infiltrazione di acqua nelle condotte che ha richiesto complesse operazioni di spurgo. Nelle scorse ore l'azienda ha comunicato che il problema a monte è stato risolto. Si comunica che l'erogazione del gas metano fino ai contatori nei quartieri di Ponte Chiasso e San Nino è stata completamente ripristinata, si legge nel comunicato. L'acqua però potrebbe essere rimasta a valle del contatore. Qualora gli apparecchi utilizzatori non dovessero funzionare per la presenza di acqua nell'impianto interno dopo il contatore, i clienti finali dovranno contattare il proprio installatore per le verifiche del caso, spiega sempre l'azienda, che invita gli utenti a conservare la documentazione delle spese sostenute per il ripristino degli impianti interni.